Siamo a Saspè nel canton vallese dalla Miscia Bellute saliamo fino alla sella del vento la Windjock da qui il panorama si apre stupendo sul nostro obiettivo una delle creste più onbeat ma meno frequentate delle Alpi la Nadelgrat. Scesi sul crepacciato ghiacciaio del Reed prendiamo dapprima il ripidissimo canalone che porta in vetta al Deerroor. Da qui la cresta ci porterà per mano prima alla vetta del Loch Berghorn poi per delicati aerei passaggi saremo in vetta anche allo Steck Nadelgrat. Infine verrà l'ultima e più impegnativa difficoltà la cima del Nadelgrat. Alla fine scenderemo dalla via normale chiudendo il cerchio al Windjock e poi giù per il meritato riposo fino al rifugio. 14 ore di avventura su montagne dai nomi tanto impronunciabili quanto interessanti e faticose. Montagne però che ci regaleranno l'ingresso nel club più esclusivo delle Alpi il Club 4000 riservato a chi di 4000 ne ha saliti almeno 3. Grazie a tutti Allora boys Sembrate più dinamici, più dinamici, via Ecco qua, il nostro stombecco Com'è Marco? Caldo Caldo? Caldo Caldo eh Dimmi? Pensionato, pensionato Quindi il giorno che è in pensione Tanto per rovinarsi il primo mese di pensione Se gli ha fatto Diamo di non restarci subito Se gli ha fatto Gli ha tentato col Monk e la Jungfrau Ma non ci sono E adesso vedremo cosa combinerà Dopo aver lavorato E' dura E' dura E' dura Come diceva il consoleduto Ma si può fare E' dura ma si può fare Si può fare Ma si può fare Devo dimostrare che arriva il suo bello fresco Diciamo che il Gran Sasso è un po' più facile E' più abbordabile E' più abbordabile E l'ho fatto fatica a starmi E ci ha dato la birra oggi Adesso ce la beviamo però Perché anche Fabio Non sembra mai distrutto Finge ma è cotto Fabio hai bisogno? Dove vai Fabio? Dove vai? Dove vai Allora for a while Our path did seem to climb When you see through love's illusions There lies the danger And your perfect lover Just looks like the perfect food So you go running off In search of the perfect stranger All alone And it seems to spring from your life Ok Urikson Ok Urikson Prego No no prima lei Prima le donne per i bambini No no prima lei Prima lei Non sia mai Scegliamoci qua Va bene scendiamoci qua Ah che bella vista qui C'è qui Fabio Tutto bene ragazzi Tu sei a posto? Marco? Tutto a posto. Non sarà facile. Non sarà facile. Sì Sai che lo tiriamo sul Fabio eh? Lo tiriamo, lo tiriamo Lo salame, appena come salame Il Cimaldurrenorn Adios, arriva anche Fabio Sì Grazie a tutti. 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 E' così che ci guidi sulle alti, sui 4.000 delle Alpi. La Lenz Spizze e il Domo. Attacchiamo ora la cima più alta, il Nadelorn. La stanchezza inizia a farsi sentire, ma la voglia di finire questa splendida avventura ci darà le ultime energie. Passato anche il punto più difficile, sarà poi una passeggiata, a dire il vero, non proprio facile, fino in vetta. A 60 anni è proprio un vero. Il sogno coltivato da quasi dieci anni con il Fabio, finalmente si avvera. Poi, tornati al rifugio, sarà brindisi e festa grande. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.